Nel suo intervento ha citato una frase di Elon Musk in cui diceva che l'intelligenza artificiale deve ritrovarci interessanti per non distruggerci. Cosa intendeva? Perché loro, i grandi sistemi del futuro, saranno molto intelligenti, saranno molto capaci e quindi ci devono guardare come qualcosa di interessante e non indifferenti. E quello è ciò che lui intendeva. E credo che sia una prospettiva buona perché noi, ripeto, non possiamo dargli regole perché le regole le cambieranno. Allora dobbiamo interessarli e così viveremo con loro. Quando dico loro dico questi grandi sistemi di intelligenza artificiale. Esatto, mi ha colpito molto che non funzionano le regole ma non funziona neppure il valore dell'utilità e forse potrebbe funzionare quello dell'etica basata sui valori. Ci dice un po' di più? Eh sì. I primi due sistemi di etica, cioè di valutazione morale, non funzionano per quanto riguarda le macchine. Ora, se utilizziamo questo concetto delle virtù, forse quello sì. Sì, forse quello sì. Abbiamo diversi valori etici e che dobbiamo in qualche modo trasmettere all'intelligenza artificiale. Non sarà facile perché ci sono presupposti che loro non hanno. Però in qualche modo alcuni autori stanno cercando di far funzionare questo sistema là. Staremo a vedere. La sua opinione su questa manifestazione, CyberSec24? Molto interessante. Purtroppo ci sono tanti contenuti che arrivano in poco tempo. Quindi se uno non ha il contesto appropriato, se non prendi appunti, è poi un po' veloce. Ma la cosa bella è che se ne parli, no? Questo è importante. E' un po' veloce.